Investire nella riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamento di opere già esistenti partendo proprio da una tipologia di struttura tra le più importanti quali la scuola di Via La Marmora e la nuova piscina del centro Pentathlon moderno di Via Togliatti è questo l'impegno contenuto nel progetto promosso e finanziato in parte da GSE gestore di servizi energetici e dal comune per promuovere lo sviluppo ecosostenibile Prendersi cura delle nostre città oggi è il modo migliore per assicurare la loro convivenza, la loro sicurezza oggi si facilita la coesione e la sicurezza in una città nella misura in cui la città funziona è in pace con l'ambiente, ha servizi efficienti, ha scuole aperte e di qualità questo consente anche di avere città più sicure e siccome noi teniamo moltissimo a rassicurare i nostri concittadini, ancora una volta io sottolineo che se ci prendiamo cura delle nostre città ci prendiamo cura anche della sicurezza dei nostri concittadini ed è un pezzo della qualità italiana che sta provocando io credo un buon esempio anche questo e sul quale dobbiamo continuare a investire. L'iniziativa Sostenibilità in Comune oggi ha visto Pesaro come protagonista e prevede lo stanziamento di circa 20.000 euro totali di incentivi per la riqualificazione energetica e ambientale. Alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che allargando il respiro dell'iniziativa in occasione del prossimo G20 tra due settimane ha annunciato che verrà rinnovata dal Governo la pressione al Presidente americano Trump nel rivedere l'accordo di Parigi sul clima. Qui viviamo a Pesaro in una città che ha fatto da anni anche grazie al lavoro fatto da Ceriscioli e da altri sindaci in questi anni in una città abbastanza all'avanguardia. Anch'io so bene la storia della bici politana anche perché Fiorello l'ha immortalata in un certo senso. Quindi siamo in corsa in questa che è la parte io credo buona della corsa che il pianeta sta sviluppando nella consapevolezza che queste due cose devono viaggiare insieme, cioè la scuola, l'investimento sull'educazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e l'educazione ambientale, la consapevolezza di quanto la sfida ambientale sia strategica per il nostro pianeta, queste due questioni devono andare insieme. Ricci nel discorso introduttivo ha ribadito l'impegno della riduzione entro il 2020 del 30% delle emissioni di gas serra che porterà oltre che ad un beneficio ambientale anche un valore aggiunto di oltre 13 milioni di euro al sistema economico cittadino in una più ampia visione del concetto di città vivace e vivibile dove oltre alla sfida climatica particolare rilievo assume il tema della sicurezza tramite la riqualificazione delle zone più degradate della città come via dell'acquedotto. Questo ovviamente è un grandissimo risultato perché fare cose fatte bene che risparmiano l'energia produce anche ulteriori investimenti nella nostra città. Inoltre con il presidente dei Gentiloni abbiamo messo anche in qualche modo la prima pietra anche del bando delle periferie, non solo della scuola. Sono 11 milioni e due che il governo ci dà per riqualificare tutta l'area dietro la caserma militare, l'area di via dell'acquedotto intorno alla stazione che oggi è considerata un po' retrobottega della città, spesso e volentieri in situazioni abbastanza degradate, nel giro di due anni potrà essere una grande area di opportunità. Al termine della conferenza in via La Marmora il premier Gentiloni ha deposto simbolicamente le prime tre pietre della nuova scuola che sarà inaugurata il prossimo anno e si è poi spostato insieme al presidente del CONI Malagò in via Togliatti dove per l'occasione è stata inaugurata oggi la nuova piscina. E quindi i miei migliori auguri a quello che oggi salutiamo nel suo avvio, non prendiamo impegni clamorosi sui tempi di inaugurazione perché chi fa il mestiere di amministratore locale sa che la strada è sempre piena di curve, ma intanto partiamo e partiamo con un bellissimo progetto, con un bel traguardo e con questa straordinaria idea di tenere insieme qualità dell'educazione e qualità dell'ambiente. Grazie e auguri alla nuova scuola di Pesaro in via La Marmora.